L'Europa fa i conti con i risultati elettorali e in uno scenario stravolto dall'avanzata degli euro scettici devora scegliere il futuro presidente della Commissione. In serata a Bruxelles si riuniscono i capi di Stato e di Governo per una prima valutazione e non è affatto scontato che i giochi vengano fatti in base ai seggi ottenuti all'Europarlamento. L'ha fatto capire chiaramente la cancelliera tedesca Angela Merkel. Certo, andremo al dibattito con il nome di Jean-Claude Juncker. E' stato detto in diverse occasioni che la cosa importante è quale tra i gruppi parlamentari è il più forte. D'altro canto sappiamo che nessun gruppo può decidere da solo. Il Trattato di Lisbona raccomanda ai dirigenti europei di disegnare il presidente tenendo conto dei risultati elettorali, ma molti leader sono resti a scegliere tra la rosa proposta dai partiti. Dalla premier socialdemocratica danese Helton Inschmidt al premier dimissionario finlandese Jürgen Katainen a quello lettone Valdis Dombrowski, sono diversi i nomi di outsider che potrebbero spuntarla sui candidati dell'Europarlamento. Jean-Claude Juncker rivendica la vittoria del PP e il conseguente diritto a guidare la Commissione. Ma la strada per lui si profila in salita e per scegliere il nuovo presidente potrebbe volerci più tempo del previsto.